Il nostro è un grido di aiuto che come Padova Bene Comune rivolgiamo al Comune di Padova, soprattutto all'Assessore e anche alla Commissione Urbanistica. Stanno stravolgendo una buona parte dei nostri piccoli rioni, dei quartieri, delle piccole vie, cambiando e modificando delle ville e villette a cui posto vengono costruiti spesso dei cubi, dei condominio che non ha niente a che vedere con l'architettura delle nostre vie e dei nostri rioni. Qua si tratta di una vera e propria speculazione edilizia. Quando da una villetta normale tu fai un condominio di 7, 8, 10 appartamenti, non si tratta più di rigenerazione, si tratta di speculazione. Chiediamo anche noi che l'Assessore intervenga in maniera forte per cercare di bloccare questa situazione. chiediamo alla Commissione Urbanistica di portare in Commissione del Comune di Padova questo tema, è un tema assolutamente decisivo che sta, ribadisco, cambiando la faccia, il vivere anche di tanti nostri quartieri.